4 ottobre 2018 Avete il muscle up? Avete gli handstand push up? Bene, allora benvenuti alla nostra classe se invece non li avete il vostro trainer vi farà fare tutti gli esercizi propedeutici per arrivare alla fine a fare questi movimenti perché ne abbiamo parlato? Perché il board di oggi si chiama Nate, anzi regional Nate per quanto riguarda gli advanced si tratta di 10 lap for time con 4 street muscle up 7 street handstand push up e 12 kettlebell snatch per quanto riguarda pesi e scalature come al solito la grafica qui di fianco ci viene in aiuto a domani